FUTTITALIA CHANNEL 87 in dribbling, 82 in fisico E anche un 74 in passaggio Che per una prima punta non è affatto male Questa ragazzi è ovviamente La punta di diamante di questo team of the week A fianco a lui non ci sono Grandissimi giocatori Perché troveremo Lavezzi, Hernanes, Terry Però non sono poi Dei giocatori diciamo Che secondo me varranno così tanto O che saranno comunque così ricercati Hernanes credo valga sui 100.000 credit Di una cosa del genere dovrebbe essere Più o meno quello del suo massimo price range Andiamo comunque subito Ad aprire i primi pacchetti Anche oggi ci sono soltanto i pacchetti Da 7.500 Quindi apriremo una decina di questi pacchetti Nel fine settimana Ragazzi probabilmente Uscirà il primo Team of the season Quindi là sicuramente usciranno dei pacchetti Speciali Faremo sicuramente un pack opening Anche in vista appunto Del team della stagione appunto Venerdì dovrebbe uscire Dalle 7 in poi Il most consistent But never in form Praticamente sarebbero ragazzi Quei giocatori che durante la stagione Non sono stati mai Non hanno mai ricevuto la loro carta in form Ma che comunque sono stati decisivi A livello di gioco Per esempio fino alla settimana scorsa C'era appunto Hazard Che lo vediamo adesso in copertina Che era uno dei candidati All'essere appunto presente Nel team of the season Del most consistent Ma purtroppo Purtroppo O a favore Insomma è uscito La sua versione in form E quindi sarà presente Unicamente nel team of the season Globale della Premier League Diciamo Vi ricordo anche che però Chi sarà presente Dentro appunto Al team of the season Di venerdì Non è Non vede preclusa La sua presenza In un team of the season Poi del suo campionato Quindi Esempio Teoricamente Il difensore della Lazio De Vrij Dovrà essere Cioè sarà presente Nel team of the season Most consistent Questo Non vuol dire Che poi non sarà presente In quello globale Della Serie A Poi ovviamente In quello globale della Serie A Magari ci saranno altri giocatori Come ad esempio Sicuramente Chiellini Rugani Anche se anche Rugani Non credo abbia ricevuto La sua carta in form Comunque poi Staremo a vedere Perché Delle prediction Non me ne occupo io E non Non saprei che dirvi Intanto ok Ne ho trovato Willian Che è un ottimo giocatore Ma non vale veramente nulla Fino ad ora Non abbiamo trovato Praticamente Niente ragazzi Andiamo ad aprire Questo pacchetto Con Higuain in copertina E speriamo di Riuscire a trovare Qualcosa di buono No Niente Boezios Buon giocatore Anche lui 88 di velocità 82 di dribbling 71 di tiro Peccato Per il 49 in fisico Che gli fa perdere Veramente parecchi punti Secondo me Vi ricordo inoltre Ragazzi Vi lascerò il link Qui sotto in descrizione O anche una notazione Dove potrete cliccare Praticamente È in corso Intanto troviamo Danielino De Rossi Che Da quest'altro anno Probabilmente Abbandonerà la Roma Anche Walker In questo pacchetto Ed altri 1000 crediti Comunque Vi dicevo Probabilmente Vi metterò Una notazione Dove Cliccando Sarete rimandati Al video Del giveaway Che è in corso Dal nostro Cioè Che stiamo facendo Con il nostro sito Il forum Praticamente C'è la possibilità Di vincere 5 milioni di crediti In vista appunto Dell'uscita di questi Team of the season Poi nel video È diciamo Tutto spiegato Come partecipare Soltanto uno di voi Sarà estratto Sarà il fortunato Vincitore di appunto Questi 5 milioni di crediti Con cui ragazzi Potrete sicuramente Provare Tantissimi Team of the season Anche quindi Coloro che magari Non ne hanno Già la possibilità Possono provare A partecipare A questa estrazione Sperando di Ritutare appunto Vincitori Qui intanto Possiamo continuare Con Hazard Un altro 77 di overall Diego Capel Dello sport in Lisbona Non troviamo Nulla di buono oggi Apriremo Gli ultimi Tre pacchetti Non ho tenuto il conto Anche oggi Andiamo a vedere Con Alaba Quindi Ultimi Tre pacchetti Ragazzi Con Alaba Troviamo un 83 di overall E Matuidi però Che non vale Praticamente Una ceppa Troviamo anche Bojan Kerkic Che ha avuto Una parabola La discendente Incredibile Al Barcellona Sembrava Dovesse essere Un fenomeno Poi La Roma Ci provò Con lui Ma andò male Il Milan Andò male L'Ajax Andò male E va male Punto Se hai capito Che ha dei limiti E che non è Ciò che tutti Ci sarebbero aspettati Andiamo quindi Ad aprire Questo ultimo pacchetto Con Lionel Messi In copertina E troviamo Un non raro Quindi Il non raro Non vale Ne apriamo un altro Perché almeno Dobbiamo terminare Almeno con una Carta giocatore Rara ragazzi Perché Altrimenti Non va bene Howard Gira Questo è raro Però è il 76 E Eliseu Che è anche un buon giocatore Perché Un terzino sinistra Con un 87 di velocità Tutte statistiche Over 70 È un 80 In fisico Poi non capisco Come fa il 76 di overall Perché ci sono giocatori Con overall il più alto Che hanno statistiche Molto inferiori a queste Comunque Anche il pack opening Di oggi Finisce qui Oggi Come gli ultimi due episodi Non siamo stati fortunati Non abbiamo trovato Alcun Giocatore In forma Comunque Ragazzi Vi rimando Ovviamente Ai link in descrizione Della patina facebook Del nostro sito Mi raccomando Iscrivetevi al forum E venite a partecipare Alla vita della community Insieme a noi Inoltre Vi lascio Il link appunto Del video Del giveaway Quindi mi raccomando Iscrivetevi anche A questa estrazione Ci vediamo Probabilmente Nel weekend Con un pack opening Diciamo in merito Al team of the season Da Liban è tutto Bella E' là E' là Grazie.